video ripresa col nuovo nubia m2 light ci siamo concessi una vacanzina siamo a porto venere facciamo un van veloce dal nostro balconcino il luogo è spettacolare per domani mettono acqua ma noi non ce ne frega perché tanto domani mattina ce ne andiamo e ce ne andiamo a mangiare a piacenza alla faccia di chi ci vuole male un po come riprende messa a fuoco molto buona devo dire che nel complesso veramente un bel telefono qui sentite gente che non va bene bla 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 entriamo nella camera là c'è uno là c'è uno che protesta sempre una roba incredibile faccio vedere un pochettino nostra cala laga laga dove l'ho già sentita questa cosa va beh faccio vedere anche il cesso comunque tanto che ci siamo cambio luce anche il cesso guardate che bella doccia che ci abbiamo ci sono anch'io tanti saluti aveo battista 70 phone ciao